Grazie Presidente. Era il 24 giugno del 2019 quando tutti, pressoché tutti, festeggiamo la disegnazione di Cortina e Milano. Io uso il rigoroso ordine alfabetico, quindi non me ne vogliono i colleghi lombardi, ma insomma Cortina e Milano, quale sede delle Olimpiadi. Assegnazione che fu il frutto di un grande lavoro, un grande lavoro che ha messo assieme sostanzialmente tutto l'arco alpino. Ricordo che per farsi assegnare le Olimpiadi fu redato un dossier all'interno del quale c'erano le opere che ci saremmo impegnati a fare e anche naturalmente le modalità con le quali saremmo arrivati all'obiettivo. Mi perdoni un attimo, senatore De Carlo. Allora, anche per il senatore De Carlo, ovviamente, chiedo all'Aula un livello molto basso. Non perché De Carlo sia qualcosa in meno rispetto ai suoi colleghi, ma anche perché il senatore De Carlo ha il diritto di parlare in assoluta tranquillità. Ma tornando ai temi, aggiungo un soprattutto allora, senatore De Carlo. Prego, prosegue. Vedo che ha capito e la ringrazio. Sottolineo Arco Alpino perché questa, nonostante siano le Olimpiadi di Cortina e di Milano, hanno una diffusione, quasi fosse un'area vasta, e tornerò sulla questione dell'area vasta perché non uso questo termine a caso, perché anche le province vicino alle province, la provincia di Belluno in questo caso, che è dove ha sede Cortina, avanno, saranno sede di attività sportive. E lo dico con orgoglio. Lo dico con orgoglio perché sulla questione dello sport e su una questione così importante come le Olimpiadi non possiamo avere confini geografici che ci dividono. Anzi, come non possiamo avere confini ideologici che ci dividono. Lo dico a beneficio di chi è intervenuto poc'anzi, in maniera un po' polemica, circa il fatto che il Governo faccia o non faccia propaganda. In realtà no, anzi io faccio appello, quale rappresentante oggi del gruppo più sostanzioso all'interno di quest'Aula, faccio appello allo spirito olimpico. E dico una cosa che può sembrare banale, ma noi abbiamo fatto una grande fatica. Guardate, Fratelli d'Italia era l'opposizione nel 2019, però ha sempre creduto fortemente in questi giochi olimpici. L'ho fatto appunto dall'opposizione, a testimoniare che noi non abbiamo bisogno di ribadire che siamo a favore dell'Italia e tifiamo per l'Italia. Noi lo facciamo con gli atti formali, con le presenze in Parlamento e anche con i nostri voti. Lo dico perché questi Olimpiadi hanno messo insieme la potenza commerciale e politica di Milano e della Lombardia con il grande blasone, il nome, la storia, la bellezza di Cortina, la perla delle Dolomiti. Oggi, lasciatemelo dire, io ci vivo a pochi chilometri da Cortina e sono orgoglioso che si possa replicare quello che si fece nel 1956. Perché oggi se Cortina è riconosciuta universalmente nel mondo non solo come la perla delle Dolomiti, ma anche come un brand, lo si deve al fatto che nel 1956 noi facemmo una grandissima, bella figura. E tutto il mondo, ancora oggi, anche negli Stati Uniti, soprattutto negli Stati Uniti, ci riconosce questa straordinaria capacità di vendere l'italianità, anche in montagna. Vedete, da quella data però, dal 19 di giugno, lo ha detto bene prima il collega Rosa che ha seguito i lavori in ottava commissione, abbiamo visto nascere il decreto legge numero 16 dell'11 marzo, che era quella che di fatto introduceva le disposizioni, pensate, urgenti, e sottolineo urgenti, per l'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi di Cortina e Milano, 2020, quattro anni fa. Poi abbiamo visto il 7 dicembre individuate le opere dal Ministero dell'Infrastruttura e del MEF. E poi abbiamo visto il piano approvato il 26 settembre del 2022 del governo Draghi. Quindi abbiamo visto tutte, ad esclusione di Fratelli d'Italia, tutte le forze al governo, a dimostrazione di come questo sia un progetto che non solo è stato condiviso alla nascita, ma è stato poi supportato anche in quest'Aule da tutte le forze politiche. Ed è per questo che forse qualche distinguo ora, forse anche un po' ideologico, ci fa pensare che sia solo strumentale e non sostanziale. Non è colpa nostra se qualcuno può pensare che qualcuno faccia un distinguo di questo tipo. Lo fa perché gli atti fino ad allora, cioè fino al 26 settembre del 2022, vedevano tutte le forze politiche che componevano la maggioranza assolutamente coese. Ora perché c'è questo decreto? Ora questo decreto serve a velocizzare, per assoluta anche stessa missione di chi l'ha steso, per far fronte alle difficoltà oggettive emerse con questo assetto nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione. Quindi prendiamo atto che c'è stata, altrimenti sui territori faremmo fatica a giustificare un nuovo decreto che affida ad altri, ad ANAS in questo caso, che ha un quadro che prevede che si possano fare affidamenti molto più veloci sempre nel rispetto delle normative. Io lo dico da sindaco, lo dico da senatore in questo caso, che si possano realizzare quelle opere che diventano strategiche non per questo governo e non a questa maggioranza. Diventano strategiche perché chiunque abbia votato in corso di questi anni possa vedere realizzare il frutto del proprio lavoro. Ed è questo l'appello che faccio. Non dividiamoci, vi prego, su questa questione, perché altrimenti daremo non solo al di fuori, alle altre nazioni, un'immagine sbagliata, ma lo daremo anche all'interno. Ci divideremo su una cosa che in realtà, per i nostri territori, io lo dico da sindaco di uno di quei territori, rappresenta non solo una ricaduta economica, non solo una ricaduta lavorativa, nemmeno una ricaduta d'immagine. Rappresenta per tanti territori l'unica speranza per invertire una tendenza che è quella dello spopolamento, che in certe aree interne, compresa la mia, ha preso sopravvento da tempo. E il mio è un appello accorato. Potevamo fare di più? Si poteva fare di più? Beh, insomma, sì, sempre si può fare di più. E questo decreto non è la dimostrazione. Però lo dico alla senatrice Sironi, che citava la linea ferroviaria Calazzo-Cortina. E non glielo dico da senatore della Repubblica, glielo dico da sindaco di Calazzo. Io avrei chiaramente gradito e voluto che ci fosse la ferrovia Cortina-Calazzo, che tra l'altro una volta esisteva, ma sulla quale abbiamo costruito un'altra infrastruttura che è tanto decantata e che ho sentito nominare anche durante la discussione generale. E c'è una pista ciclabile. Allora, delle due l'una, ragazzi. Distiamo la pista ciclabile più bella del mondo, che è quella che da Calazzo va a Lienz, oppure ci facciamo la ferrovia? Perché se avessimo avuto tempo e risorse per fare anche la ferrovia, beh, io credo che non avreste trovato nessuno contrario. Ma se avreste chiesto a qualsiasi cittadino della provincia di Belluno, se tra la ferrovia e avere infrastrutture che consentano di arrivare non solo i turisti, perché non parliamo solo dei turisti, ma anche dei residenti, e ha citato bene prima Misiani non solo la circonvallazione di Cortina, ma anche quella di Longarone, che funge da tappo, non solo per i turisti al ritorno, ma anche per i tanti residenti, beh, io credo che se avessimo messo sulla bilancia, se avessimo fatto un qualsiasi referendum così caro a tante forze politiche, i cittadini non avrebbero avuto nessun dubbio. Tutti avremmo voluto una verità che funziona. E quando mi sento dire, senatrice Forridia, lei sa quanto io le voglia bene, ma che 3 miliardi dedicati alle strade non sono un patrimonio, un beneficio che rimarrà alle comunità locali, io le dico che le strade e le infrastrutture da sempre rappresentano un favorire lo sviluppo delle civiltà e lo sviluppo anche delle economie locali. Ed è per tutti questi motivi che, pur riconoscendo che c'è tanto lavoro da fare e che noi dobbiamo farlo, che dobbiamo fare di più. Non possiamo accontentarci, perché tutto quello che sentiamo sui territori non è frutto di demagogia, non è frutto di ideologia, è frutto del sentire di una popolazione che ha bisogno di vedere il proprio Stato concreto e che realizza quelle opere che ha promesso. Ed è per tutti questi motivi, oltre che per l'appello allo spirito olimpico, che sono sicuro che in quest'Aula alberghi io dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia.